Ayama Ayama. Sai cosa vuol dire? No. Allora Ayama vuol dire qualcuno su cui appoggiarsi e non è propriamente un vino italiano o meglio per due terzi è italiano. Cioè l'origine e chi lo fa? Allora chi lo fa è Attilio dal Piazza e Michela Sfiligoi due friulani doc che hanno deciso di allevare questo vermentino più propriamente è un clone del vermentino sardo e secondo te dove hanno pensato di andare ad allevare questo vitigno? In un posto dove ci sia male. Ma ci sia male di cosa? Di Africa? Esatto. Infatti questi qua ci sono talmente innamorati del Sud Africa che hanno acquistato una tenuta, cento e passa ettari di tenuta a circa 20 chilometri da Città del Capo. E come in una trama di un film è proprio la classica storia di chi va in un posto per la mia Africa vacanza e si innamora e decide di farne la sua casa. Esatto e hanno fatto questa grande scelta appunto di usare il vermentino che vi assicuro che non è proprio la cosa più semplice portare un vitigno in un posto come Sud Africa perché pensate che in tutto il periodo da quando hanno portato le prime barbatelle che è un clone devono essere autorizzate poi c'è tutto un programma ci vogliono sei anni ma bisogna dire una cosa che questo vino è stratosferico non so dire un altro termine. E' veramente favoloso perché rientra proprio nei canoni di gusti, ha una morbidezza, un velluto, una pienezza straordinaria ma questo vino ti sorprende già al naso con una complessità infinita. Se uno è appassionato che gli piace star lì col bicchiere sotto il naso può star tranquillamente dieci minuti un quarto d'ora prima di metterlo in bocca. Note fruttate, note leggermente di vaniglia, note di candito, albicocca, ananas... Anche di uva passa. E la ritroviamo in bocca ma tra l'altro è veramente un' esplosione di gusti. Tra l'altro una cosa che a me piace tantissimo è l'etichetta che c'è questo disegno particolare che potrebbe sembrare tribale invece è il disegno che aveva fatto il mosto fiore sulla cisterna quando era in riposo e loro hanno ripreso questo disegno e l'hanno raccontato. Questo vino può sostenere anche una carne, forse una carne bianca? Sicuramente sì, carne bianca. Anche perché è intenso quindi. Un bel tacchino, i formaggi anche stagionati senza problemi o qualsiasi piatto di pesce. A me viene in mente del tonno. Il tonno è sicuramente una possibilità. Mi piacerebbe sapere che altri piatti tipici locali si potrebbe assaggiare. Speriamo di non dover andare in Africa per assaggiarli. No, speriamo di andare in Africa ad assaggiarli anche perché vorrei assaggiare un rosso con la zebra. Oppure, non so, con un elefante ripieno. Aiama. Qualcuno scui appoggiarsi. Grazie a Tivio, grazie Michela e viva!